Pietro, il cugino del tuo povero padre. A te nessuno ti voleva perché muto la sei, babbasuna! Vestitevi coricate. E gli darai figli che lui vorrà! E che Dio vorrà! La moglie avva a dare. A dare. Parla! Un linguaggio. Libertà. Marianna Ucria. Il cinema italiano torna grande. Cosa che non volete? Questo volete? Serpente, tarattola, scorpione. Dal best seller di Dacia Maraini, noi siamo guidati dai nostri sentimenti. Il nuovo film di Roberto Faenza, Marianna Ucria. All'inferno, Fenerai, all'inferno!